Il governo greco ha deciso lunedì di sospendere il campionato greco, dopo l'irruzione armata sul terreno del presidente del PAOK Salonico, Ivan Savitis, durante una partita con l'AE Catene, che era stata interrotta. Abbiamo deciso di sospendere il campionato, ha dichiarato il sottosegretario allo Sport Giorgos Vasiliadis dopo una riunione del governo di emergenza, gli incontri, non riprenderanno fino a quando non sarà messo in piedi un nuovo quadro, concordato da tutti, ha aggiunto, aggiungendo che Atene è in contatto, con la UEFA. Grazie